un saluto guardiani bentornati per una nuova video recensione oggi leggendaria andremo a vedere a vostra richiesta perché in realtà me l'ha chiesto uno di voi di farla questa recensione andremo a vedere un lanciarazzi uno storico lanciarazzi il fame di crota che cos'è fame di cosa fame di crota è il lanciarazzi leggendario del ride la fine di crota dell'espansione la prima espansione di destiny l'oscurità dal profondo la particolarità di questo lanciarazzi è che fino a poco fa fino a prima del dlc casato dei lupi era l'alternativa migliore al galla orna se non serve al galla o se si utilizzava lo slot esotico per un'altra arma il fame di crota per insomma per le varie attività di destiny ed inoltre per tirare giù il simpaticone di crota nel ride nel suo ride era l'arma diciamo ottimale dopo il galla orn io l'ho portata comunque a 365 perché ha delle statistiche dei perk che sono utili anche se adesso con il reforging possiamo praticamente portare quasi tutti i lanciarazzi ad avere per esempio l'auto tracciamento però il la fame di crota ha anche delle altre caratteristiche che adesso andremo a vedere che la rendono comunque un'ottima arma io ho veramente tante come si chiamano luci etere quindi l'ho utilizzata per portarlo a 365 di attacco andiamo a vedere danno elementale statistiche danno elementale solare quindi a fuoco così come il galla orna attacco a 365 utilizzando la luce eterea vediamo le statistiche cadenza bassa ma è un lanciarazzi area di impatto velocità stabilità e ricarica eccezionali veramente statistiche molto molto alte e caricatore da due proiettili così come capita praticamente nella maggior parte dei lanciarazzi quindi va bene così due colpi due razzi vediamo subito i perk primo trio delle abilità lancio morbido compensatore lineare e aggressivo io ho scelto ovviamente lancio morbido perché sia lineare che aggressivo mi vanno a togliere stabilità e insomma non mi danno nulla di più quindi si va sul sicuro con lancio morbido primo perk quello diciamo tra virgolette più utile nei lanciarazzi rintracciamento i proiettili sparati da quest'arma seguono i bersagli nulla di più semplice sparate il razzo quando mirate il nemico il razzo segue il nemico potenzialmente al danno secondo trio di abilità abbiamo estrazione celere che è un perk da pvp quindi non ci serve su quest'arma giavellotto che aumenta la velocità della testata però mi riduce vedete l'area impatto siccome la velocità della testata è già molto alto preferisco ottenere l'area di impatto più elevata anche per il prossimo perk che andiamo a vedere non questo del trio il prossimo specifico e carica esplosiva aumenta l'area di esplosione della testata questo è molto molto importante nei lanciarazzi perché avrete la possibilità di fare un danno ad area maggiore ecco qua il nostro perk bomba a grappolo è un perk molto molto carino i razzi creano bombe a grappolo quando esplodono perché dicevo che era che è quest'arma un'alternativa valida al al gallaurn perché di fatto senza reforging sono senza nulla anche perché non si possono riforgiare queste armi l'arma si presentava già con il rintracciamento con questo bombe a grappolo che era che è un espediente meno potente ma comunque abbastanza efficace al perk del gallaurn dei razzi che si dividono e colpiscono il bersaglio quando il razzo impatta con il nemico perché perché qua non crea dei razzi ovviamente ma crea delle bombe a grappolo che esplodono tutto intorno nell'area di impatto creando appunto ingenti danni bonus ingenti danni ad area quindi un'ottima ottima ottima arma un ottimo lanciarazzi potenziamento al danno e perturba alveare che è il perk specifico di tutte le armi del ride la fine di crota che aumenta i danni inflitti ai maggiori dell'alveare e andiamo in gameplay e vediamo come si comportano questi due perk e vediamo anche come si comporta l'arma eccoci con il nostro solito astore sulla nostra solita luna ormai lo dico ogni volta lo facciamo saltare in aria come di consueto subito super abitudinario e guardate che bello la nostra fame di crota con quel teschio fiammeggiante di verde sopra il mirino sentite autotracciamento razzo pam ecco come avete potuto vedere nonstante io abbia mirato un solo nemico ho ucciso anche tutti quanti quelli intorno all'area con quell'esplosione a grappolo che appunto è scaturita dalle bombe a grappolo stesse generate dal razzo della rintracciamento avete visto come il razzo segue il bersaglio e come esplodano le bombe a grappolo successive bene guardia anche per questo video è tutto dalla calda caldissima luna cosa appena passato una stella cadente vabbè un asteroide e niente io come sempre vi auguro buona fortuna i drop ci vediamo al prossimo video e buone ferie buone vacanze ciao guardiani